Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è un video informativo Per quanto riguarda la casa produttrice di giochi Ubisoft Qualcuno che era già iscritto si ricorderà Inizio dicembre portai un video che parlava di Ubisoft Che regalava giochi Fino all'inizio di dicembre Ubisoft regalava Assassin's Creed E regalava World Conflict Ha deciso comunque di prolungare questa cosa Quindi tutti gli utenti Ubisoft che sono già registrati O comunque vi potrete registrare Avrete questi due giochi che c'erano fino ad ora In più è stato aggiunto un nuovo gioco ragazzi Che è come state vedendo Watchdog Watchdog che comunque è un titolo sempre di Ubisoft E per ottenerli ragazzi è abbastanza semplice Come ho già detto Se siete diciamo clienti Ubisoft Che avete comprato dei giochi Ubisoft Avrete sicuramente un account Quindi potrete ovviamente Accedere all'area servizi di Ubisoft E potrete usufruire di tutto quello che c'è ragazzi Allora come dicevo Dal 18 dicembre 2017 Alle ore 15 Al 23 dicembre 2017 Alle ore 11 Avete piena disponibilità Di questi tre giochi Come fare a scaricare questi giochi Ovviamente dovete essere registrati Già come ho detto Quando avete il vostro gioco Che vi interessa Ci cliccate sopra E andate per Per scaricare questo gioco Allora io sono registrato da Diciamo da console Quindi qui mi chiederà Di registrarmi anche da PC Quindi andremo a cliccare su registrati da PC Anche se Se anche a voi vi darà la stessa cosa Diciamo Andremo a registrarci Non dovremo fare nient'altro Ovviamente gli dovremmo dire Di usare questo account Quindi andremo ad usare l'account E qui abbiamo già il gioco ragazzi Il gioco è stato aggiunto alla tua libreria Quindi potremmo trovare Potremmo scaricare tranquillamente Il gioco Quindi qui lo dice Puoi trovare il tuo nuovo gioco Nella tua libreria Giochi di Uplay PC Quindi a questo punto L'unica cosa che dovete fare Ragazzi è andare qui E avviare il vostro download Ragazzi Niente di più semplice Poi a limite Se volete scaricare anche Uplay PC Scaricate l'app Uplay PC E avrete Diciamo Degli aggiornamenti costanti Da parte di Ubisoft Per quanto riguarda Tutti i suoi giochi Per quanto riguarda Tutte le sue cose ragazzi Quindi Non perdete Non perdete Quest'occasione Per scaricare Questi tre giochi da PC Per i player da PC A cui interessa questa cosa Penso che sia Una buona occasione Ragazzi Detto questo ragazzi Un saluto a tutti E al prossimo video Ciao a tutti